Assolutamente. Allora, buongiorno. Venerdì 5 ottobre. Tre giorni fa il Parlamento europeo ha votato per una riduzione, una proposta di riduzione delle emissioni che le nuove automobili, furgoni e camion dovranno garantire da qui al 2030. Allora, cosa ha votato il Parlamento europeo? Ha votato una proposta nella quale si indica come obiettivo di ridurre del 40% le emissioni che le nuove automobili dovranno garantire rispetto ai valori del 2021. Scusate, vado a controllare un attimo. Sì, del 2021. Quindi le nuove automobili dovranno, entro il 2030, ridurre del 40% le emissioni rispetto a quelli che sono i limiti 2021 che, ricordiamolo, sono 95 grammi di CO2 per chilometro. Questa è una votazione molto importante perché sino a qualche mese fa, quando ancora c'era il governo italiano precedente, questo limite non era meno 40%, era meno 30%, quindi 10 punti percentuali in meno e fanno un'enorme differenza a livello continentale, fanno un'enorme differenza. Quindi non solo è stato aumentato, grazie, come vi ricorderete, lo avevamo detto un mese fa, alle pressioni italiane, perché all'ultimo Consiglio dei Ministri in tema di mobilità, il nostro Ministro è andato a dire, chiaro e tondo, che appunto la posizione italiana era per un innalzamento di questo obiettivo dal meno 30 al meno 40%. Adesso si è votato in Parlamento e il Parlamento appunto ha confermato la posizione italiana e gli europarlamentari 5 Stelle naturalmente hanno votato conformemente a questa proposta, anzi sono stati tra quelli che nel corso di questi anni maggiormente si sono battuti in tal senso. Quindi tantissimi complimenti ai colleghi, agli europarlamentari italiani che da anni lavorano per alzare i livelli qualitativi di tutto il reparto industriale e in questo caso delle automobili. È stato alzato il target al 2030, è stato anche introdotto un target vincolante al 2025, quindi entro il 2025 questa riduzione deve essere del 20%, quindi al 2025 meno 20%, al 2030 meno 40% ed è stato votato anche l'introduzione del malus, cosa che la Germania guarda caso aveva tolto, aveva tolto nella bozza qualche mese fa all'ultimo momento perché il malus significa se tu casa costruttrice non mi dimostri che hai venduto un tot di auto a basse emissioni entro quella data, io ti faccio pagare una multa. Questo è il malus. era rimasto solo il bonus che diceva se tu mi raggiungi quel risultato io ti do un determinato vantaggio, ma avevano tolto il malus e invece è stato reintrodotto. Ora io ci tengo ad avvisarvi tutti o perlomeno quelli che vedranno questo video che il Parlamento Europeo ha votato in questo senso ora la palla come si dice calcisticamente parlando passa a questo famoso trilogo e questo è un problema che il Movimento 5 Stelle ha denunciato da tempo ribadisco in sede europea perché il trilogo non è trasparente. Mentre io cittadino europeo posso andare nel sito del Parlamento Europeo e vedere deputato per deputato chi ha votato sì chi no e chi si è astenuto il trilogo è una scatola nera è una scatola nera nella quale non si ha assolutamente contezza di cosa succede quindi questa è una cosa per il quale ricordatevi già alle prossime elezioni europee perché ormai si comincia a parlare delle prossime elezioni ricordatevi il Movimento 5 Stelle è stato il primo comunque tra i più costanti nel denunciare questa problematica che le decisioni finali avvengono nel trilogo e nel trilogo non c'è assolutamente contezza di quello che succede non c'è una rendicontazione pubblica non c'è una registrazione pubblica e quindi non si capisce a chi dare le responsabilità e detto questo quindi di questo voto parlamentare 5 Stelle e soprattutto il nuovo governo italiano già un mese fa aveva spinto in questo senso vi volevo riassumere velocemente quello che è uno studio uscito da poco di un'associazione internazionale che si occupa appunto di mobilità e il quale sancisce con dei numeri precisi quello che diciamo si sapeva così ad occhio ma adesso sono state calcolate delle cifre precise prima però ribadisco un'introduzione essenziale quando si parla di mobilità sostenibile mobilità sostenibile non significa semplicemente mobilità elettrica ci sono moltissime altre cose anche più importanti tra cui il trasporto pubblico perché se voi vivete in una città congestionata dal traffico e io qui a Roma tutte le mattine tutte le sere lo vedo avere un ingorgo in cui ci sono 10.000 auto bloccate ai semafori bloccate in una rotonda bloccate per un incidente mi fa poca differenza avere 10.000 auto bloccate col motore a scoppio e 10.000 auto col motore elettrico meglio certamente le 10.000 auto elettriche non emettono gas di scarico quindi sicuramente l'inquinamento diminuisce ma se un'ora ci mettevate andare al lavoro ci mettiamo adesso andare al lavoro perché abbiamo migliaia e migliaia di auto che si infilano nelle strade e le congestionano allo stesso tempo ci metteremo anche se le auto fossero elettriche quindi il primo sforzo il primo sforzo a mio avviso ma direi anche del movimento più importante è quello di infrastrutturare maggiormente il trasporto pubblico quindi più autobus più metro più tram più trasporto pubblico il trasporto pubblico è più efficiente dal punto di vista energetico e decongestiona in maniera assolutamente maggiore rispetto ad avere auto che semplicemente da benzina passano ad auto elettriche quindi il primo sforzo è per il trasporto pubblico locale poi l'abbiamo sempre detto lo sharing la condivisione e ricordo per esempio ai cittadini di Roma che esistono oltre agli operatori privati esiste anche lo sharing del comune di Roma esiste anche lo sharing del comune di Roma che fra l'altro offre anche appunto autovetture elettriche 100% elettriche quindi dicevo più sharing più trasporto pubblico locale più mobilità leggera più mobilità leggera quindi biciclette a pedalata assistita o normali scooter e tutti gli altri mezzi che si stanno diciamo così entrando nel mercato dai monopattini agli hoverboard le monoruote sui quali c'è del lavoro da fare ma l'ho detto nelle puntate precedenti per cui vi rimando eventualmente alle puntate precedenti e oltre a quella detto questo che è la premessa principale perché non si deve parlare solo di mobilità elettrica allora vediamo se mi sussiste se mi se tiene il wifi non si capisce perché ogni tanto mi dice che non c'è rete eppure il wifi c'è io vado avanti spero di essere sempre in linea dicevo abbiamo questo studio che ha calcolato con cifre precise quelli che ibrida o elettrica il singolo proprietario risparmierebbe 900 euro all'anno per minori costi di carburante e minori manutenzioni quindi 900 euro all'anno in più c'è il dato economico riguardante minori malattie perché ovviamente sostituendo il parco veicoli da motore a scoppio scusate ma qua continuo a ripetermi che non sono in diretta vediamo 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 allora proviamo a togliere il wifi e ad andare con la rete cellulare sperando che ritorni il segnale ok se magari mi date un feedback adesso sembra che sono tornato in diretta ho tolto wifi ho messo il cellulare dicevo sono stati conteggiati i risparmi i minori costi sanitari perché passando a un parco autovetture più pulite avremo meno costi sanitari e parliamo di miliardi di euro parliamo di 10 miliardi di euro in meno in spese sanitarie appunto derivanti dal fatto di sostituire automobili con motore a scoppio con automobili elettriche e si risparmierebbero per quanto riguarda anni di vita risparmiati 7 miliardi di euro questi sono diciamo in sintesi i dati forniti da questo studio faccio una breve scorsa un attimo perché volevo segnalarvi un altro paio di cose che me lo sono sottolineate naturalmente è implicito il discorso che avremo saremo meno dipendenti dalle importazioni di petrolio creeremo più posti di lavoro e altro dato che è stato stimato sono 1100 morti in meno 1100 morti in meno da qui a 2030 utilizzando automobili appunto più pulite e un sistema di mobilità comunque meno inquinante 1100 morti in meno e 1.630.000 giorni di assenza di lavoro per malattia evitati quindi pensate anche a questo ulteriore vantaggio economico si eviterebbero giorni di malattia 1.630.000 giorni di assenza dal lavoro per malattia quindi questo calcolo ci dà un'idea dell'enorme vantaggio del passaggio appunto alla scelta di una mobilità più sostenibile mi ero segnato un altro paio di cose vediamo se le trovo allora già nel 2020 passare a un ibrido permette di risparmiare 350 euro all'anno nel 2030 il risparmio salirebbe a 1800 euro all'anno ribadisco meno manutenzione meno costo di carburante quindi questo è il dato calcolato da questo studio impatto sul clima passo avanti perché ne abbiamo già parlato nei video che ho fatto precedentemente e sull'aria vi ho appena vi ho appena dato vi ho appena fornito i dati sulle malattie che verrebbero evitate eccole qua aggiungo circa 2000 casi di cancro ai polmoni verrebbero prevenuti 12600 casi di bronchite 8,8 milioni di casi di sintomi respiratori tra gli adulti e 852 mila tra i bambini lo rileggo 2000 casi di cancro i polmoni verrebbero evitati 12600 casi di bronchite 8,8 milioni di malattie diciamo meno gravi respiratorie e 800 mila tra i bambini ecco questo ve l'ho già detto 2 milioni di giorni di lavoro per assenza verrebbero evitati più altri 5,8 milioni di giorni ad attività parzialmente limitata in cui si lavora meno efficientemente perché si sta poco bene e con questo i dati principali che volevo fornirvi perfetto un'altra cosa di cui volevo informarvi è questa noi stiamo lavorando per semplificare la possibilità di installare colonnine di ricarica all'interno dei condomini che sono 1.200.000 in Italia allora intanto la precisazione che non tutti conoscono quindi vi prego casomai di dirlo ai vostri amici colleghi chi ha il box privato nei condomini chi ha un box privato ecco nel box privato assolutamente può installare o una presa di ricarica 220 o una colonnina di ricarica della tensione che preferisce 20 kilowatt 40 kilowatt eccetera ovviamente operando nel box privato si paga i costi cioè è roba sua nel suo box privato il condomino ci può fare quello che vuole attenzione non ha bisogno della approvazione dell'assemblea di condominio questa è la cosa essenziale nel box privato il condomino grazie alla nuova legge 2057 2016 che è entrata in vigore il 13 gennaio 2017 quindi solo un anno e mezzo fa ed è per questo che mi permetto di ribadirla perché molti probabilmente non lo sanno perché è una legge che ha un anno e mezzo di vita ribadisco chi abita il condominio ma il box è suo è privato assolutamente può installare la colonnina di ricarica non ha bisogno del permesso del condominio dov'è che c'è bisogno della delibera condominiale dove si vuole installare una colonnina di ricarica in uno spazio condiviso in uno spazio comune del condominio in uno spazio comune del condominio allora lì ci vuole la delibera dell'assemblea di condominio però siccome c'è un un conflitto giurisprudenziale tra leggi diciamo tra questa legge e il codice civile ci siamo attivati e properremo un emendamento nel primo veicolo legislativo possibile insomma con la prima possibilità per rendere completamente efficace questa norma perché in questo momento c'è chi la mette in posizione col codice civile e quindi non sempre diciamo i tribunali danno ragione a questa interpretazione che io vi ho dato relativamente appunto alla possibilità con la delibera dell'assemblea di condominio di mettere la colonnina di ricarica nello spazio comune nello spazio comune nello spazio condiviso del condominio bene detto questo un'ultima cosa ve la volevo ribadire rispetto al voto che è stato dato in Parlamento con gli obiettivi 2040 questo voto se il trilogo lo confermerà e quindi noi staremo molto attenti su questo permetterà di far sì che finalmente anche l'industria automobilistica che purtroppo ha mentito ai consumatori ha ingannato i consumatori il palo dello scandalo dieselgate quindi il fatto che determinate case automobilistiche dicevano che le loro automobili emettevano tot grammi di CO2 per chilometro quadrato e invece non era vero ecco quindi questo voto se confermato al trilogo costringerebbe le case automobilistiche a recuperare il diciamo così il poco impegno l'insufficiente impegno che hanno profuso negli anni passati per rendere le loro automobili più pulite perché ribadisco lo scandalo dieselgate ha dimostrato al di là di ogni contestazione che le case automobilistiche dicevano di aver già raggiunto determinati risultati e invece non li avevano raggiunti quindi innalzare l'asticella di diminuzione delle emissioni inquinanti emesse da un'automobile costringerebbe le case automobilistiche a fare quello che non hanno fatto negli anni passati guadagnandoci un sacco guadagnandoci un sacco perché naturalmente ci davano per ottime delle automobili che invece erano mediocre a livello di inquinamento parlo di a livello di emissioni inquinanti bene detto questo adesso vi lascerò il link con un paio di notizie e con questo studio che vi ho riassunto velocemente con questi numeri di risparmio sulla salute e di risparmio sulla Maria mi fai sempre le domande a cui ho già parlato ho già detto che ci sono in Italia c'è già altro consumo che ha fatto causa sicuramente alla Volkswagen alla BMW non lo so sinceramente non lo so sulla BMW però contro Volkswagen si c'è già una class action per le emissioni appunto per lo scandalo dieselgate contro Volkswagen a memoria non mi ricordo se è anche contro BMW ma sappiamo tutti che il maggiore imputato in questo caso era la Volkswagen bene detto questo vi lascio il link allo studio in oggetto in maniera che chi vuole se lo può leggere e naturalmente ribadiamo il fatto che la mobilità sostenibile passa per un rafforzamento della mobilità pubblica del trasporto pubblico locale e su questo naturalmente ci stiamo impegnando moltissimo a livello di Parlamento e di Governo quindi grazie a tutti e buona serata buon weekend